Sì, noi abbiamo chiesto al Governo e a tutta la politica e alla Regione, al Governatore Luca Zaia, di fare una proroga temporanea per la dichiarazione dei redditi che scadeva il 31-10. Purtroppo, come abbiamo visto tutti, il Veneto è stato devastato da questa calamità naturale e pensiamo che sia opportuno che da parte del Governo ci sia questo rinvio della scadenza. La proposta riguarda la Regione Veneto, ma anche le regioni coinvolte nel resto d'Italia. Noi abbiamo chiesto una temporanea, quindi almeno di 10-15 giorni, in modo che questi cittadini poi non si trovino anche delle multe da pagare. Finora non abbiamo avuto risposte, però siamo fiduciosi che questa sarà una proposta che verrà presa in considerazione. Settimana prossima saremo al MEF per quanto riguarda il risparmio tradito e ci faremo portavoce anche di questa nostra richiesta.